Chiarezza sui motivi che hanno portato il Comune di Termoli a rilasciare un parere favorevole in Regione alla proposta di variante del progetto per il raddoppio ferroviario tra la città e l'Esina. L'ex sindaco Antonio Di Brino e il senatore Ulisse Di Giacomo vogliono capire anche quali sono le garanzie alla base della decisione relativa a un'opera che per ora riguarda l'alta capacità e hanno osservato gli esponenti del nuovo centro-destra un numero sempre maggiore di treni per il trasporto delle merci all'interno del centro abitato. Qualcuno mi deve spiegare perché è possibile delocalizzare la rete ferroviaria per tutto il territorio di Lesina e oggi e ne sono contento anche per il territorio di Campomarino e proprio a Termoli dove la rete ferroviaria passa e spacca in due la città non è possibile fare questa cosa con tutte le ripercussioni negative. Secondo il consigliere Di Brino che ha presentato un'interrogazione al sindaco Angelo Sbrocca il Comune di Termoli rischia di perdere un'opportunità vanificando così l'impegno della passata amministrazione. Noi non siamo una riserva SIUX dove tutti possono venire, entrare e passare senza lasciare nulla. A Termoli va lasciato qualcosa. Mi dispiace perché la mia amministrazione il 17 febbraio dello scorso anno aveva approvato una delibera di giunta con parere non favorevole salvo impegni formali e vincolanti da parte di RFI. impegni che non ci sono stati, che non ci sono ancora. Adesso abbiamo delle flebili promesse che sono convinte non porteranno a nulla per la città di Termoli. Il senatore del nuovo centro-destra si è soffermato sul metodo seguito per dare il via libera alle procedure. Il rappresentante del Comune di Termoli è andato senza una delega istituzionale perché non c'è alle spalle di questa conferenza né una delibera di giunta né tantomeno una delibera di consiglio comunale. Quindi credo che si tratti di un metodo illegittimo. E di Giacomo chiederà spiegazioni ai responsabili delle ferrovie. Lo farò domani al management delle ferrovie italiane che avremo in audizione in commissione in Senato chiedendo quali sono i termini dell'accordo, se accordo vi è stato, e ribadendo invece che qualsiasi cosa dovrà essere fatta in questo territorio dovrà prevedere un ristoro per il Comune di Campomarino e per il Comune di Termoli a fronte della disponibilità e dei sacrifici che questo territorio fa.